Apriamo il breviario nel giorno della festa di Sant'Agostino, vediamo le letture disponibili per le varie parti del giorno e questo è il breviario vero e proprio. Poi abbiamo a disposizione letture, abbiamo un'ampia raccolta di preghiere e abbiamo anche una scelta di messale completo. L'app è a cura di Paolo Padrini e Dimitri Gianni ed è scaricabile gratuitamente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.